Siamo pronti? Il tempo strange, Skeeter. Lo so, lo so, ma non voglio che il grande capo resti fulminato. Ah no, certo. L'hai messo a posto? Diamo un'occhiata. Yo, yo, yo. Prova, prova, uno, due, andiamo. Ehi! Mi sentite lì dietro? Skeeter? Io dico Barry, voi dite Nottingham. Barry, Nottingham. Barry, Nottingham. Andiamo, un applauso per il grande capo. Oh, Bronson, conosci mia figlia Violet? Solo per la sua reputazione, signore. Com'è? No, 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 non nel senso di cattiva reputazione. Solo si dice che sia una ragazza facile. Ma non facile, facile. Facile e disponibile, aperta, ai rapporti umani, perché le piace uscire e divertirsi tutto il tempo, nei disco bar, con tanti ragazzi diversi. Quella era la vecchia Violet Nottingham, prima di conoscere me. Ora tocca a me tenere il mio passerotto lontano da riflettori, locali e cronache mondane, giusto, signore? Violet prende lezioni private di tennis da Federer. Ah, bene, buon per lei. Pace, a dopo. Ciao.